Aggiungo il professor Marco Lanzetta Bertani, ringrazio anche la signora Rossella, ci farà da paziente, farà da paziente al professore, perché oggi parliamo di artrosi alla mano. Siate in tante, davvero in tante che ci avete scritto, perché purtroppo è una patologia che riguarda tantissime persone, soprattutto le donne, come ci dirà il professore. Oggi faremo proprio vedere una visita in diretta, che cosa significa soffrire anche di artrosi alla mano. Allora, parliamo dei segnali, dei sintomi tipici di un'artrosi alla mano. Quali sono, professore? L'artrosi della mano può riguardare tutte le articolazioni sia delle dita lunghe che del pollice. Normalmente la forma più diffusa è quella che colpisce le articolazioni delle dita lunghe vicine alle unghie e la base del pollice. Oggi ci concentriamo proprio su quella forma del pollice che si chiama rizzortrosi. La signora Rossella, come vedete, non è una comparsa del pubblico, perché è una signora che ha veramente la rizzortrosi. Lo vediamo, al di là dell'esame che faremo fra un po', anche da questo rigonfiamento importante, che significa che l'osso, il primo osso della colonna del pollice, il metacarpo, si è lussato alla base e quindi abbiamo questa protuberanza importante ed è proprio qui il dolore principale. Mi spiace, Rossella. Però abbiamo identificato proprio il dolore. Questo perché compromette anche le azioni più semplici, quotidiane. Insomma, le persone non riescono più neanche a svitare un barattolo. Sono cose che nella famiglia ritornano perché sappiamo che questa forma di artrosi domina nella parte femminile della famiglia. Quindi vedevo qua questo bel tatuaggio dei due figli della signora. Sofia avrà questa cosa, invece le è o no. Sofia è una figlia, intorno ai 40-42 anni. Possiamo prevenire, la ricerca nel frattempo va anche avanti. Sì, certamente la signora ci direbbe molto meglio di me quelle che sono le difficoltà durante la giornata, però in particolare sono essenzialmente tre. Quella di svitare le cose. E proviamo con l'altro barattolo. Ecco, vediamo con questo. Il barattolo della pasta. Vediamo. Lo so che è difficile. No, non ce la fa. È proprio questa la difficoltà. Tra l'altro guardate cosa sta facendo la signora con questo tipo di malattia. Posso provare io? Perché magari soffro anch'io e non lo so. No, vabbè, questo è duro però. L'abbiamo stretto troppo però. Ah no, la cattiveria. Però se avete visto cosa fa la signora. Era duro però, devo essere sincera. Quando non c'è la rizzartrosi normalmente si apre un barattolo così, molto semplice. Quando invece cominciamo a avere dei dolori alla base del pollice facciamo dei tentativi di aprire il barattolo in questa maniera, perché in questa maniera non ruotiamo più il pollice ma solamente il polso. E quindi classicamente queste sono persone che hanno sì male al pollice ma anche al gomito, alla spalla e al collo. Magari anche a lei sta succedendo un po' di questa cosa. Quindi questo è... E la visita come a parte pigiare nella zona dolorante? Questo è un movimento che si chiama grinding test, per cui facendo questo lavoro riproduciamo il lavoro di rotazione del pollice e sentiamo una frizione tra quest'osso metacarpale e un altro ossicino del polso che si chiama trapezio. Quindi sentiamo proprio un attrito importante. Dopodiché i punti da esaminare sono questo, questo e questo. E a seconda del dolore che la signora sente, abbiamo capito prima che il dolore più importante è qui. Sì, molto. Ecco, questo vuol dire che è una malattia abbastanza avanzata. All'inizio invece il dolore è qua davanti, dove c'è un piccolo legamento che si sfibra piano piano. E adesso lei probabilmente non sente grandi dolori qua così. E in una forma molto più avanzata abbiamo anche un dolore tra il primo e il secondo raggio, trovate tra il pollice e l'indice, in questa zona, dove si formano dei cosiddetti osteofiti. E qui ha male. Quindi ecco, dopo parliamo alla radiografia. Lei sicuramente se venisse da noi l'avrebbe, però la diagnosi è già fatta. Lei è una risartrosi molto avanzata. La sua soluzione è andare al chirurgo. Ci sono, signora Rosetta, ci sono le soluzioni. Possiamo curarle. Ci sono tante terapie a nostra esposizione. E' proprio di questo. Parleremo di diagnosi, perché poi ci sono anche altre diagnosi accurata, ma già, come dire, la visita clinica del professionista, già in grado di capire esattamente che grado di artrosi. Poi vedremo, parleremo di diagnosi, parleremo di terapie e parleremo anche di intervento, subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi. Eccoci, siamo tornati in diretta. Siamo in compagnia del professor Marco Lanzetta Bertani. C'è anche con noi la signora Rossella. Grazie, innanzitutto abbiamo visto la visita che il professore ha fatto sulla signora e abbiamo capito che la signora soffre, anche così, facendo una prima visita di rizzo e artrosi. Ci sono però degli esami più specifici per capire anche la gravità e il grado dell'artrosi, professore? Un esame fondamentale, basta quello, è semplicissimo. Lo si può fare in qualunque radiologia o centro radiologico, lo vediamo forse. Adesso lo manderanno questa immagine e vediamo proprio una risa di artrosi importantissima alla base del pollice, in questo caso più alla mano di sinistra che alla mano di destra ed è importante appunto studiare la malattia. Ad esempio, in questo caso, chi guarda da casa vedrà un'enorme differenza tra la sinistra e la destra. Qui dovete guardare in fondo al pollice, alla base, che cosa si sta verificando tra queste due ossa che sono ormai completamente a contatto e tutta quella parte biancastra è la vera artrosi. Quindi a sinistra abbiamo uno stadio 4 e qui abbiamo bisogno di un intervento chirurgico che ripeto, ormai è diventato veramente una formalità. Parleremo allora, prima di arrivare all'intervento. A destra invece abbiamo uno stadio intermedio e lì è possibile arrestare la malattia in quello stadio. Quindi non è vero che l'artrosi non si può curare, diciamo in alternativa alla chirurgia e qui abbiamo un sacco di possibilità per fermare la malattia in un secondo stadio. E allora parliamo di queste alternative. Prima dell'approccio chirurgico ci sono delle alternative. Quali sono queste alternative? Quali sono queste terapie? Sì, le alternative di solito al Centro Nazionale Artrosi le mettiamo in campo tutte insieme perché attacchiamo la malattia da vari punti di partenza. Come vedete qua, la prima cosa è la parte alimentare personalizzata, l'abbiamo parlato veramente tante tante volte. L'integrazione di questa parte alimentare, voi sapete io non prescrivo da ormai più di 15 anni penso farmaci tradizionali per la rizortrosi, ma solamente principi attivi naturali. Questa è la mia scatolina perché anch'io non è che predico bene e razzolo male. Queste sono le pastiglie che devo prendere tutti i giorni perché le mie articolazioni siano in forma e siano flessibili. Quindi la signora andrebbe comunque su un programma di integrazione con dei supplementi perché abbiamo un'altra mano che invece è in una situazione molto molto più favorevole. E poi abbiamo delle infiltrazioni, qui bisogna parlare al singolare. Noi facciamo una infiltrazione radio guidata e poi consigliamo dei tutori personalizzati. Questa è come una seconda pelle, viene fatto il calco della mano e realizzato un tutore che è solo per la signora che ha un doppio uso. Il primo è quello di poter lavorare, ad esempio la signora mi diceva lavorava in uno studio medico, poi ha una casa chiaramente da mandare avanti. Quindi quanto più stiamo usando le mani, quanto più questo serve moltissimo per non infiammare l'articolazione. Di notte non serve, a riposo non serve, al cinema o davanti alla televisione non serve assolutamente niente. Quindi è una cosa per lavorare. E poi le infiltrazioni, allora andiamo sulle infiltrazioni. Quali sono le sostanze che si utilizzano? Ecco questa è una domanda importante, è una domanda che mi fanno veramente ormai la maggior parte dei pazienti quando vengono per i social. E' anche per questo che magari approfitto, da gennaio ho dovuto, tra le tante cose che devo fare, anche organizzare un podcast che mi piace moltissimo portare avanti, 100% MLB su Spotify, YouTube e TikTok. Quindi invito tutti magari ad andare a vedere, troverete un sacco di risposte anche a questi argomenti. Anche sulla piattaforma Play 2000, possiamo rivedere tutti i consigli. Abbiamo dei video molto molto visualizzati. Sì, quindi le infiltrazioni possono essere di varie cose. Chiaramente quando inseriamo in un'articolazione un certo tipo di prodotto, quello che tutti conosciamo, l'acido ialuronico, sappiamo già che è un lubrificante ma che avrà una durata molto limitata. Lo usiamo nelle fasi iniziali insieme all'alimentazione. Quando invece abbiamo un'articolazione che sta andando verso l'intervento chirurgico però è ancora possibile intercettarla. Lavoriamo con le cellule staminali, queste cellule particolari di cui ormai si sente molto parlare che danno dei risultati che non esiterei a definire veramente straordinari. Vengono recuperate dal grasso della pancia. Forse qua vediamo qualche... Abbiamo parlato tante volte di queste cellule mesenchimali che servono un po' per la rigenerazione, no? Dei tessuti di cui voi, insomma, voglio dire, ne abbiamo parlato, sono dieci anni, no? Assolutamente, sì. Sono otto-dieci anni che noi ogni volta parliamo della straordinarietà di queste cellule così super potenti. Adesso però parliamo dei casi più gravi, no, professore? Concentriamoci quando purtroppo queste alternative non funzionano più. Lei ha accennato, ci sono questi interventi mini-invasivi, di cosa si tratta? È tornato molto di moda l'intervento, io lo propongo molto di più perché è una cosa che, diciamo, è l'intervento che io eseguo di più da più di trent'anni. Però se guardo quello che facevo negli anni 90-2000 oggi è veramente cambiato completamente, erano interventi complicati, grandi incisioni, ricostruzioni con tendini, allora non si poteva garantire una riuscita al 100%. Oggi invece la cosa è completamente cambiata, quello che vogliono sapere i pazienti è l'incisione, e l'incisione è questa, spero che la vediate, è circa un centimetro. La cosa è mini-invasiva, l'intervento dura 32 minuti di media, il recupero è completo, quindi la signora si dimenticherà del suo problema e tornerà a fare tutti i movimenti che deve fare. Cosa si fa in pratica? Attraverso questa incisione si devono fare due cose, si tira fuori una cosa e se ne mette un'altra. Per cui c'è una protesi che viene installata. Esattamente, non è una protesi come quella delle ginocchia o delle anche che ci permette... La stiamo vedendo in questo momento nel video. Eccola, è una protesi biocompatibile, quella pallina bianca che vedete, alla fine è una pallina di Goretex, quindi è un materiale che utilizziamo quando andiamo a sciare o una giacca vento. Oppure i militari lo usano molto. Esattamente, è un materiale biocompatibile che non dà rigetto, che rimane per tutta la vita e permette a me e alla signora dopo sei mesi di non vederci più, perché questa non è una protesi che si degenera o si può spostare o può dare dei rigetti e questo è un grandissimo vantaggio perché abbiamo una durata infinita, quindi l'intervento è risolutivo. L'artrosi non verrà più alla signora. Per cui non ci sono recidive, possibilità di recidive, non torna... No, e di solito la stragrande maggioranza dei pazienti, una volta visto il risultato, vengono per... Parliamo del posto operatorio, dopo un intervento appunto di... Come si deve comportare il paziente e la paziente, professore? Il posto operatorio è abbastanza facile, ma deve essere fatto a due condizioni, con grande serietà e con un professionista che fa esclusivamente questo lavoro. Quindi io in Italia ho una serie di centri di riferimento dove esistono delle fisioterapiste della mano che hanno una grandissima esperienza di rizzoartrosi e questo assicura che il perimetro di lavoro sia il migliore. Per avere un successo dobbiamo avere il chirurgo che fa un ottimo lavoro, il fisioterapista altrettanto e che la signora metta anche del suo e riprenda la funzionalità in circa... La media sono 42 giorni dall'intervento. E poi deve continuare, dico, la signora a seguire anche uno stile di vita adeguato? Sì, io la signora sicuramente... Lei ha detto che non torna, però... Non torna, non torna l'artrosi. No, l'artrosi non torna più qua, però potrebbe sicuramente colpirla nelle piccole articolazioni, soprattutto se la mamma presenta le stesse cose. Quindi adesso io non ho avuto il tempo di fare tutta l'anamnesi e le domande che devo fare alla signora, però è molto probabile che le proporrò di intraprendere una dieta personalizzata e a quel punto la malattia si calma, si ferma ed è quello che vogliamo entrambi. Anche perché è giovane la signora. Grazie, grazie di cuore alla signora Rostella, grazie ovviamente al professor Marco Lanzetta Bertani. Grazie alla prossima.